Un salutone di nuovo a tutti gli amici di Telebambo Web TV e di Youtube eccoci qua con un altro nuovo filmato, sempre sul Giro d'Italia 2015 tutto ciò che c'è da sapere sul Giro e su quanto è seguito il Giro d'Italia per voi amici di Telebambo, spero che vi piaccia che sia di vostro rialimento un salutone ai prossimi filmati, ciao! Un salutone a tutti e tra poco con la presentazione delle tappe del Giro d'Italia 2015 ciao a tra poco, sempre sul Telebambo Web TV seguiteci, a tra poco! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.